Torquato Tasso è un personaggio che definiremmo oggi un po' matto. Ed è un personaggio che ha avuto ai suoi tempi dei problemi che spesso si creava lui in realtà, con l'Inquisizione, per il suo poema principale, La Gerusalemme di Berata, che però, per paradosso, avrebbe più problemi oggi con l'Inquisizione moderna del politicamente corretto di quanto non ha avuto all'epoca con l'Inquisizione romana. Torquato Tasso è spesso contrapposto a Ludovico Ariosto, perché si parla di due poemi caravallereschi, l'Orlando furioso della Ariosto e la Gerusalemme liberata del Tasso, di spirito però totalmente opposto. Infatti ci si divise in due scuole. Vi fu chi preferiva la Ariosto e vi fu chi preferiva il Tasso. Galileo Galilei, ad esempio, preferiva l'Orlando furioso. Al contrario, il Tasso, anche come personaggio, attirò l'attenzione di grandi poeti dell'Ottocento, romantico, uno su tutti, Wolfgang Goethe, che ha dedicato una sua opera proprio a Torquato Tasso come persona. Persona particolare. La cosa in comune che ebbe con l'Ariosto fu l'essere un poeta di corte della casa d'Este di Ferrara. La differenza fu il fatto che lui era campano, non era ferrarese, era di Sorrento, ebbe però una sensibilità molto diversa, che lo portò addirittura ad autoaccusarsi davanti all'inquisizione, che lo portò, la cosa più allucinante, a scappare fino in campagna, fino ad arrivare mascherato dalla sorella. E cosa fai davanti alla sorella? Dici, ah, tuo fratello è morto, per vedere l'effetto che fa, come direbbe Iannacci. E poi quando vede che la sorella sinceramente piangeva la morte del fratello, disse, no, guarda, sono io, sono ancora vivo, io non so quale sia stata la reazione della sorella, e la immagino che gli abbia tirato due schiaffe come minimo. E questo era il tasso. E questa sua sensibilità molto forte si riflette nell'opera principale, La Gerusalemme liberata, il suo capolavoro. Come abbiamo detto, un'opera analoga all'Orlando dell'Ariosto, ma opposta come spirito. Soprattutto nel tema principale, la lotta tra cristiani e musulmani. Nell'Ariosto è basato sulla cosiddetta materia di Francia, cioè la chanson de Roland, e Carlo Magno e l'epica carolingia, quindi un'altra epoca. Mentre Torquato Tasso prende come soggetto alla sua opera la prima crociata. È cambiato lo spirito, comunque, non è solo la questione del tasso come persona, è anche lo spirito del tempo, che conta moltissimo. L'Ariosto vive in pieno rinascimento, quindi c'è una visione della vita diversa, più leggera. Lo scontro tra cristiani e musulmani non è visto nemmeno, è visto come uno scontro come tra greci e troiani, non so come dire, non è visto come uno scontro tra due ideologie religiose irriducibilmente opposte. Con il tasso c'è stato il Concilio di Trento e c'è stata la controreforma. Quindi l'aspetto religioso diventa molto più forte, diventa molto più sentito dallo stesso autore. In più bisogna anche tener conto che siamo nell'epoca in cui la contrapposizione con i turchi, che andavano e venivano sulle coste italiane, è portata ai massimi la battaglia di Lepanto e di quegli anni. Quindi c'è anche questo scontro. Il musulmano in quel momento è più il turco che l'arabo, sebbene appunto nei grandi poemi cavallereschi sia l'arabo il vero musulmano. C'è il musulmano per autonomia, il saraceno, che sarebbe l'arabo, mentre in quel momento è il turco. Tant'è che all'epoca per dire convertirsi all'Islam si diceva farsi turco. La Gerusalemme liberata, come concepisce il tasso quest'opera? Non solo delectare ma anche docere appunto, bisogna insegnare. Insegnamento religioso nello spirito della controreforma. Ma vi sono anche modelli classici. In primis le neidi, l'armi pietose e il capitano, che il gran sepolcro liberò di Cristo. I primi due versi della Gerusalemme richiamano arma virunquecano, troie qui primus a Boris, cioè canto l'armi e l'uomo, l'armi pietose e il capitano, canto l'armi e l'uomo, come l'incipit dell'Eneide di Virgilio. Il modello virgiliano è molto forte. Goffredo di Buglione, il protagonista della Gerusalemme liberata, è modellato sull'Enea di Virgilio. Qual è la caratteristica? Il pios, la pietas, la religiosità. Ovviamente Enea aveva la sua religiosità verso i dei pagani, i dei false bugiardi, come dice Dante. Goffredo di Buglione verso il dio cristiano. Ma proprio questa sua somiglianza ad Enea fa sì che come nell'Eneide di Virgilio Enea è uno dei personaggi meno riusciti rispetto a Didone soprattutto, ma anche rispetto a Camilla e Uriolo Eniso, a tanti altri personaggi, così Goffredo di Buglione è uno dei personaggi storico anche, è il personaggio tra i meno riusciti della Gerusalemme rispetto a Tancredi, rispetto a Clorinda, rispetto a Darmida, rispetto a Rinaldo, perché sono molto più complessi questi personaggi, sono molto più sfaccettati, molto meno sicuri di sé, quindi hanno un appeal maggiore, un fascino maggiore. Quindi il modello è dell'Eneide. Però, e c'è anche il meraviglioso, cioè come negli poemi omerici e nell'Eneide, gli dei prendevano campo, l'Eliade, ci ricordiamo che, adesso prendiamo l'Eliade come esempio, che c'erano gli dei che tifavano per i greci e gli dei che tifavano per i troiani, anche per motivi assurdi, spesso, ah, Era stava con i troiani, ma quello lì, quello stronzo lì non mi ha dato la mela, e allora gli distruggo la città. Cioè, Afrodite, cioè, Era stava con i greci per questo, Afrodite invece stava con i troiani perché c'era suo figlio Enea, e poi, insomma, a pari di Dedele, insomma, era stata lei la mediatrice. Cioè, dei motivi molto umani. Il meraviglioso cristiano di Tasso, invece, in cosa consiste? consiste nel mettere in campo, sì, delle forze sovrannaturali, ma forze cristiane, del mito, chiamiamolo così, cristiano, del sovrannaturale cristiano. Cioè, quindi, Dio, gli angeli, da una parte, Plutone lo chiama alla pagana, ma sarebbe Lucifero, Satana, e i demoni dall'altra. I demoni stanno con i musulmani, ovviamente, e gli angeli, Dio, San Michele, sta con i cristiani. Vi sono episodi, celebermi, come l'amore tra Tancredi e Clorinda, la donna guerriera musulmana, che poi muore in duello e viene battezzata in punto di morte. Ricorda molto l'episodio di Achille Pentesilea, cristianizzato, o anche dalla Camilla Virgiliana. Armida, la maga che tiene Rinaldo nel suo giardino. Era una circe. Poi ispirerà il grande Jean-Baptiste Lully, il compositore di corte di Luigi XIV di Francia, in una sua opera, l'Armida. È una circe, una circe cristianizzata. La prima crociata viene completamente, ovviamente, riletta con dei moduli non storici, dei modelli non storici, anche i nomi, anche se c'è qualche nome davvero più arabo che nell'Orlando di Ariosto, dove i musulmani avevano nomi come Sacripante, Rodomonte, cioè dei nomi italiani. Qui c'è un Aladino, ad esempio, c'è un Solimano, che già sono nomi che... Però c'è anche Clorinda, c'è Argante, ci sono anche dei nomi della tradizione cavalleresca, del poema epico-cavalleresco. Quindi c'è questa fusione tra poema epico-classico, in primis l'Eneide, poema cavalleresco, e anche questo suo meraviglioso cristiano che Tasso inventa. Sta di fatto... Siamo all'epoca dell'Inquisizione, dopo il Concilio di Trento, contro Riforma. C'è già meno libertà di espressione artistica rispetto al Rinascimento dell'Ariosto o del Pulci, che è un altro poema simile, dove appunto lo scontro tra i cristiani e i musulmani non aveva questa valenza religiosa così marcata che ha nel Tasso, è più un divertismone, è più, prendo, come dire, appunto, Greci e Troiani nessuno si mette... se oggi scrivesse sui Greci e Troiani si metterebbe a parteggiare per l'uno o per l'altra parte, credo. Cioè, renderebbe... non c'è un bene male nell'Ariosto o anche nel Pulci, che è il Tasso ben netto. Perché l'Inquisizione, comunque, è un poema di stile religioso, la Controriforma, comunque, in qualche modo, dava queste direttive. viene sottoposto all'Inquisizione per vedere se poi c'era un indice, era stato istituito l'indice dei libri proibiti, praticamente di tutto lì dentro. il Tasso lo fa vedere all'Inquisizione, vediamo se va bene. L'Inquisizione dice che va bene, ma il Tasso non va bene. Cioè, diventa più severo lui della stessa Inquisizione, dice, no, 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 ha sbagliato l'Inquisizione, ma devo riscriverlo tutto. e scrive la cosiddetta Gerusalemme conquistata. Non è più la liberata, la conquistata. Dove, per esempio, spunge tutto l'episodio di Armida e Rinaldo, che è uno dei episodi più forti del poema, perché c'è dentro l'amore carnale, cose di questo genere. Si fa delle menate allucinanti e dà le stampe questo nuovo poema. Noiosissimo. Mentre la Gerusalemme è liberata, pur restando nei canoni rigidi di alcuni dettami, di un politicamente corretto dell'epoca, che è quello dettato dall'Inquisizione e ti dava un politicamente corretto da seguire, è un gran poema, è un poema che piace ancora oggi perché ha un'umanità qualcosa di molto profondo. Ha conquistato e diventa proprio l'apice del politicamente corretto, due palle così. Si passa da un capolavoro veramente alto, diverso dall'Ariosto. Non è che l'Ariosto migliore o peggiore, no, sono due spiriti diversi, ma è un capolavoro liberato, comunque. Ha una cosa noiosissima. Per le menate del tasso, le sue menate interiori, che no, va bene, cose di questo genere. Il tasso oggi cosa farebbe? Oggi sarebbe dura per il tasso. Dovrebbe fare un poema al contrario, con i musulmani buoni e i cristiani cattivi. Con gli angeli schierati dalla parte dei musulmani e i diavoli dalla parte dei cristiani. No, ma manco quello, perché ora siamo all'ateismo di Stato e quindi il meraviglioso va espunto, come ha fatto Wolfgang Petersen espungendo gli dei in Troi. Clorinda non deve, ovviamente non battezzata, non si sa mai, e non deve morire, perché se no è femminicidio. Ogni epoca ha il suo politicamente corretto. All'epoca era l'inquisizione. Oggi è questa scemenza che ti vieta via col vento, che ti vieta tutte queste cose qua, che ti fa mettere il bollino. Siamo passati, anche noi, da un rinascimento, che era quello degli anni 60-80, a una nuova inquisizione. Quindi, prima di sfottere il tasso perché scrive, riscrive il poema, pensiamoci, oggi il tasso non sarebbe passato, perché nello spirito della sua epoca ha descritto la crociata dalla visuale dei crociati. Mi stupisco se lo insegnano ancora a scuola. O se già non hanno chiesto la sua rimozione. Ecco, questo è il tasso, questa è la controriforma e ve lo dico nell'età, questa lezione è fatta nell'età della controriforma laica.